Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di stelle, ma per cominciare a parlare di stelle, dobbiamo prima vedere un attimo insieme che cos'è e come si comporta la luce. Noi infatti studiamo le stelle attraverso i telescopi. Le stelle mettono luce e quindi dobbiamo conoscere bene come si comporta la luce, la radiazione luminosa. La luce è un'onda elettromagnetica e le onde elettromagnetiche, come tutte le onde, sono caratterizzate da alcune caratteristiche, in particolare la lunghezza d'onda, cioè la distanza che intercorre tra una cresta dell'onda e quella successiva, e una frequenza. La frequenza indica il numero di volte che l'onda oscilla in un determinato tempo. La lunghezza d'onda e la frequenza della luce, come di tutte le onde, sono tra di loro inversamente proporzionali. Questo significa che aumentando la lunghezza d'onda andrà a diminuire la frequenza, e viceversa, aumentando la frequenza andrà a diminuire la lunghezza d'onda. Associata alla frequenza di un'onda elettromagnetica c'è anche la sua energia. Questo significa che più aumento la frequenza, più energia quella luce trasporterà. Andiamo quindi a vedere che noi possiamo dividere l'intero spettro elettromagnetico in alcune categorie rappresentate da onde di tipo diverso. Abbiamo ad esempio le onde radio, che sono le onde a frequenza minore, le microonde, l'infrarosso, la luce visibile, cioè quella che noi vediamo con i nostri occhi e attribuiamo ai diversi colori, l'ultravioletto, i raggi X, i raggi gamma e così via. Abbiamo quindi diverse zone dello spettro elettromagnetico. In questo grafico, spostandoci da sinistra verso destra, la radiazione elettromagnetica aumenta di frequenza e aumenta anche di energia. Restiamo sulla luce visibile. Quella sottile sezione dello spettro elettromagnetico della luce visibile si allarga in questo grafico e ci mostra che anche la luce visibile in realtà è costituita da diverse regioni, quelle che noi attribuiamo normalmente ai colori. Ad esempio, la luce rossa è caratterizzata da una lunghezza d'onda più grande rispetto alla luce verde o a quella blu. Questo significa anche che la luce rossa sarà associata a un'energia minore, mentre la luce blu o violetta con una maggiore frequenza sarà associata a un'energia maggiore. Se prendete la fiamma di un accendino, potrete osservare ad esempio che la zona più vicina al gas, più vicina al combustibile dell'accendino è di colore blu, mentre la fiamma che si allontana dall'accendino potrà assumere un colore tra il giallo e il rosso. Questo significa che la fiamma in quella zona è meno calda, emette meno energia, mentre la fiamma nella zona blu, più vicina al serbatoio del gas, ha un maggiore calore, una maggiore energia. Possiamo traslare questa osservazione anche alle stelle. Infatti le stelle che noi osserviamo nel cielo possono essere di colore diverso, dal rosso al giallo al blu. Questi diversi colori sono associati a una diversa temperatura e a una diversa energia emessa da quelle stelle. Noi osserviamo le stelle attraverso gli spettri elettromagnetici, raccogliendo quindi l'informazione luminosa che la stella ci rilascia. Spesso siamo in grado di osservare le parti dello spettro elettromagnetico mancanti, quelle cioè che sono state assorbite dalle zone più esterne della stella. Ad esempio, se il sole emette luce su tutto lo spettro elettromagnetico, la superficie del sole, la zona più fredda, assorbirà alcune di queste radiazioni. E noi avremo quindi uno spettro di assorbimento della stella sole, grazie al quale potremo anche indagare la composizione chimica precisa di quella stella. In base a queste informazioni noi classifichiamo le stelle in alcune categorie. O, B, A, F, G, K ed M. Per ricordarsi questo ordine c'è spesso una frasetta mnemonica associata. O, be a fine girl oppure guy. Kiss me. Se notate le iniziali di questa frase corrispondono alle lettere delle categorie di stelle. Le categorie di stelle sono ordinate per colore e di conseguenza per energia, per temperatura della stella. Andiamo dalle stelle blu, le più calde, alle stelle rosse che sono le più fredde. In questa tabella possiamo vedere un breve riassunto della classificazione. Le stelle di classe O hanno una temperatura superficiale abbastanza elevata, 28, 50, 1000 K, e un colore blu-azzurro. Scendendo nella classificazione arriviamo fino alle stelle meno energetiche, meno calde, le stelle di tipo rosso, la cui temperatura è 1700-3200 K, quindi vedete anche 10 o più volte più fredde rispetto alle stelle di categoria O. Oltre alla temperatura superficiale, nelle stelle blu, nelle stelle bianche, nelle stelle gialle, nelle stelle rosse, cambia anche la massa media di queste stelle, con le stelle di categoria O che sono generalmente le più grandi, quindi quelle più estese con il raggio maggiore e con la maggiore massa. Inoltre, le stelle di categoria O sono anche le più luminose. Quindi questa classificazione tiene conto di diversi parametri. Le stelle O sono le più calde, grandi e luminose. Le stelle rosse, M, sono le più piccole, fredde e meno luminose. In tutta questa categoria abbiamo anche le stelle di tipo giallo, come ad esempio il sole. Stelle di fatto medio piccole. La vita delle stelle e la loro evoluzione nel tempo può essere studiata attraverso un grafico, un diagramma, che si chiama diagramma HR. Il nome HR viene dalle iniziali degli scienziati che hanno elaborato questo diagramma. Il diagramma HR è di fatto un grafico dove vengono messe in relazione la temperatura delle stelle e la loro luminosità. Questo è un esempio di diagramma HR. In asse delle scisse, asse delle X, vengono rappresentate le temperature. Vi faccio notare tuttavia che è un asse al contrario, cioè più si va verso destra più la temperatura è bassa, mentre stando verso sinistra dell'asse delle X la temperatura è più elevata. Quindi abbiamo in questo asse la categorizzazione O, B, A, F, G, K, M in questo ordine, dalle più calde alle più fredde. Mentre l'asse delle Y, delle ordinate, rappresenta la luminosità. Fatta 1 la luminosità del sole. Cosa significa? Che si considera il sole come luminosità standard. Se una stella è 10 volte più luminosa del sole, dovrà essere nella posizione dell'asse delle Y al punto 10, se è 100 volte più luminosa del sole al punto 100 e così via. Questo diagramma di fatto rappresenta le stelle andando a creare dei gruppi di cui potete vedere i nomi. Nane rosse, giganti rosse, super giganti, nane bianche e così via. La luminosità delle stelle è di fatto l'energia che le stelle emettono e che noi possiamo vedere con l'occhio o con il telescopio. La luminosità dipende sia dalla temperatura della stella sia da quanto la stella è grande, che è chiaro che se una stella è più grande, più estesa, sarà anche probabilmente più luminosa. L'unità di misura per valutare la luminosità si chiama magnitudine. E ci sono due modalità di valutare la luminosità di una stella. La magnitudine apparente è semplicemente quanto noi vediamo quella stella luminosa sulla Terra. Quindi se io guardo il cielo e guardo diverse stelle, vedrò le stelle più vicine e più grandi molto luminose e le stelle più lontane rispetto alla Terra meno luminose. Il Sole ad esempio, che ovviamente è la stella più vicina a noi, ha una magnitudine apparente di meno 27. Per come è misurata la magnitudine, un numero negativo significa che è più luminosa. Quindi più il numero è piccolo, meglio è dal punto di vista della luminosità. La Luna piena, anche se non è una stella, riflette la luce solare. E quindi io posso dire che ha una magnitudine apparente di meno 13, Venere di meno 4 e così via. Se noi però andiamo a vedere le altre stelle nel cielo, la notte, osserviamo sempre stelle che hanno una magnitudine tra 0, meno 1, 1, 2. Il limite a occhio nudo è di circa 6. Oltre a questo limite di 6 non vediamo più le stelle, che continuano ovviamente ad esistere. Se utilizziamo un telescopio riusciamo a vedere stelle più lontane, meno luminose. E ovviamente c'è un limite a tutto perché i telescopi sulla Terra riescono a vedere anche i più potenti soltanto entro certi limiti. La magnitudine assoluta invece è una misura che dovrebbe astrarci dal fatto che noi osserviamo le stelle dalla Terra. Per valutare la magnitudine assoluta noi facciamo dei calcoli matematici e andiamo a dire la magnitudine che avrebbe una stella se si trovasse a una distanza di 10 parsec. Quindi più o meno di 32 anni luce dall'osservatore. Di conseguenza il Sole, che per noi è estremamente luminoso perché è la stella più vicina alla Terra, la magnitudine assoluta del Sole è di soltanto 4,4 perché il Sole è una stella gialla di piccole dimensioni. Se andiamo a prendere la stella Sirio, che a noi appare molto meno luminosa rispetto al Sole ovviamente, ha in realtà una magnitudine assoluta più grande. Questo significa che se noi mettessimo il Sole e Sirio alla stessa distanza dalla Terra, vedremo Sirio molto più luminosa del Sole. Tornando quindi al diagramma HR, vediamo che la luminosità che è rappresentata in questo grafico è ovviamente la magnitudine assoluta fatta 1, la magnitudine del Sole, cioè misurato il Sole come 1. Le varie categorie che ci sono in questo grafico rappresentano delle tipologie particolari di stelle. Le nane bianche sono stelle di colore bianco con una luminosità abbastanza bassa. Le super giganti sono stelle di grande dimensione di colore tendenzialmente rosso e con una luminosità elevata e così via. La sequenza principale, che è la zona diagonale al centro del grafico, rappresenta le stelle nella maggior parte della loro vita, cioè una stella vive la maggior parte della sua vita all'interno di questa sequenza principale. Le stelle possono appunto spostarsi dalla sequenza principale per andare a collocarsi in alcune di queste zone periferiche come quella delle giganti rosse o delle nane bianche durante la loro vita, in particolare verso la fine della loro vita. Questo è tutto per la lezione di oggi. Vi ringrazio per aver seguito questo video e a presto!